Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione Oggi parleremo della nuovissima serie tv Pennyworth Secondo spin off per quando riguarda l'universo di Batman Pennyworth come titolo ci suggerisce Ci parla delle mirabolanti avventure, forse del maggiordomo più famoso della storia dei comic book Alfred, interpretato negli anni da un sacco di attori Attori del calibro di Sir Michael Caine, Michael Dog Ovvero il famosissimo Alfred dei primissimi film, ovvero quelli con Michael Keaton Per esserci chiari Alfred verrà interpretato dal giovenissimo Jack Bannon Inglesissimo dalla punta dei capelli fino alle unghie dei piedi Ci farà conoscere un giovanissimo Alfred Uscito fresco fresco dalla guerra Dopo un po' di avventure post-guerra Forse farà la conoscenza più bella e fortunata della sua vita Ovvero quella di conoscere il famosissimo miliardario Thomas Wayne Conosceremo tutte le sfaccettature di questo personaggio Personaggio che è in un certo senso molto diverso A cui noi siamo non solo abituati ma che abbiamo anche conosciuto Un personaggio da giovane molto diverso E in un certo senso timido, scaltro per certi versi Molto ingenuo ma anche un pochettino Ma anche incoscienti in certi punti della storia Il personaggio che ho notato puntata dopo puntata Sta crescendo in un certo senso Quegli errori, quelle paure, quei timori che aveva nella prima puntata In un certo senso stanno piano piano scomparendo Durante la puntata appunto noteremo molti flashback Di quelli che sono il periodo della guerra Il periodo della formazione durante le armi Che l'ha formato, l'ha forgiato Nel personaggio forse più scaltro come ho detto prima Quello forte, quello tenace Che in un certo senso questo personaggio ha Un personaggio che ha una doppia sfaccettatura come ho detto prima Ho parlato anche di Thomas Wayne Ecco, un altro personaggio che durante i film Se non ricordo male o comunque non è sempre stato partecipe Si è sempre parlato appunto del famosissimo omicidio di lui e della moglie Marta Ecco, qui conosceremo molto di questo personaggio Della sua ricchezza, di come è diventato in un certo senso Thomas Wayne Chi è in realtà? Che cosa nasconde questo personaggio? Ancora single, scapolo, giovanissimo Ma conoscerà appunto la famosissima Marta Che ancora non è Wayne Quindi conosceremo un po' anche del vissuto di questa famosissima e giovane coppia Che devo essere sincero, queste tre puntate mi sono piaciute L'unico forse pelo negativo è stata la durata delle puntate Forse un'ora era un pochettino eccessivo per diciamo il ritmo delle puntate Ritmo che è stato un pochettino altalenante Ci sono stati momenti di azione pura A momenti, devo essere sincero, di non noia pura Però ci siamo quasi avvicinati Alcuni dialoghi erano un pochettino troppo allungati Alcune scene sono state rese un pochettino troppo corte Devo essere sincero, mi ha dato questa impressione Però alla fine è una serie tv che puntata dopo puntata ti appassiona È intrigante in un certo senso Sceneggiatura, i costumi e soprattutto i costumi sono perfetti Sono bellissimi Anche le musiche in un certo senso ti riescono a sovrastare Quei momenti che come ho detto prima erano di noia In fin dei conti ci concentriamo sul personaggio Che è il personaggio di Alfred che ti conquista Ha quest'aria, quest'aria maliante di personaggi Che nonostante la giovanità Sembra che voglia raccontare molto E secondo me ne racconterà nelle prossime puntate Bene ragazzi che dire Spero che la recensione delle prime tre puntate Parentesi senza spoiler Perché veramente ci sono un sacco di cose da dire Chiusa parentesi vi è piaciuta Ovviamente vi metto questo del link in descrizione Il trailer Ditemi se anche voi guarderete questa nuovissima serie tv Se guardando il trailer non vi è piaciuta completamente Vi è intrigato Scrivete tutto qua sotto nei commenti Noi invece ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione Mi raccomando, mi raccomando iscrivetevi E mettete un bel vi piace a questo video Condividetelo ovunque Ciao 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 Grazie a tutti.